La Toscana continua ad essere una delle regioni più appetibili d'Italia per le eco-mafie, pur scendendo dal sesto al settimo posto nella classifica nazionale stilata da Lega Ambiente con Cobat e presentata a Firenze. In termini assoluti il numero delle infrazioni è sceso a 1695 contro gli oltre 1900 dell'anno precedente per un rallentamento dei racket legati agli animali e agli incendi di bosco. In compenso le organizzazioni criminali che puntano sul cemento, fra busi edilizi e grandi appalti, hanno rafforzato la loro attività così come restano stabili reati connessi allo smaltimento illecito dei rifiuti e ai predatori dei beni archeologici. I vertici di Lega Ambiente Toscana hanno sottolineato l'importanza della legge entrata in vigore nel maggio scorso che ha introdotto i reati contro l'ambiente nel codice penale. Che stabilisce finalmente che i delitti contro l'ambiente sono reati penali, sono reati come dire con la R maiuscola. Questo è un dato storico eclatante e quindi il disastro ambientale, l'inquinamento, il traffico di materiale radioattivo, l'omessa bonifica, l'impedimento di controllo. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti è Firenze, la provincia con il numero più alto di infrazioni rilevate nel 2014, 56 in tutto, seguita da Prato con 55 e poi da Lucca e Livorno con 45.